ultima serata di gala all'ippodromo di Villa Glori si corre il premio Roma con la moneta di 10 milioni poi finirà la sua carriera per ragioni urbanistiche è in testa Nievo numero 9 che ha stroncato un attacco di Checopra in partenza lo segue come un'ombra creva al cuore numero 11 e la lotta sembra ristretta a questi due cavalli ma a largo in terza muove all'attacco il gran favorito Icar quarto numero 10 9 11 continuano nel loro duello a fondo nel quale finirà per godere un terzo con ritmo impressionante Icar quarto continua nella sua azione progressiva che spinge al massimo sul rettilineo finale è una lotta stupenda tirata allo spasino irretichibilmente Icar quarto supera creva al cuore e sbuca primo sul palo un campione di razza eccelsa grazie a tutti